Buonasera ragazzi, eccoci qua in questo video esclusivo, edizione diciamo straordinaria per il rinvio delle partite tra cui Inter Sampdoria di stasera, le notizie qua trafugano, si aggiornamenti continui ogni 10 minuti sempre nuove notizie, nuovi contagiati, soprattutto in Lombardia ce ne sono tanti e si è dovuto per forza di cose rinviare delle partite, quindi Inter Sampdoria stasera non si giocherà così come l'Atalanta non giocherà e il Torino ha anche rimandato la partita insomma, vari casi, difficile adesso prevedere cosa succederà nei prossimi giorni giovedì, giovedì con Ludo Goretz si pensa di giocare a porte chiuse, anche perché UEFA non può rinviare nulla a meno che non giochi in un campo neutro insomma, la situazione è davvero complicata vedendo questo coronavirus che si sta espandendo anche in Italia e sperando che non sia poi così grave e che dire della nostra Inter è un vantaggio o un svantaggio non giocare stasera? Non lo so diciamo che ora, questa partita qua probabilmente si giocherà a maggio anche perché il calendario è quello che è a meno che era un giorno in cui, no, beh, Coppa Italia c'è anche la semifinale, la settimana prossima, insomma, è un bel casino, un bel casino non si può non si può rinviare a chissà quando tra turni infrasettimanali, tra altre partite nel weekend insomma, un po' difficile prevedere quando si giocherà in Inter Sampdoria se non magari verso fine stagione e per la partita con Ludo Goretz sicuramente, appunto, si può rinviare secondo me giocherà a porte chiuse l'unica soluzione credo che non ci siano, appunto, altre scelte e poi domenica prossima Juventus-Inter partita che si giocherà a Torino anche lì, porte chiuse può anche darsi può anche darsi insomma come ben sapete insomma, penso che voi ci siate informati sul coronavirus sono state pare anche altre disposizioni tra cui scuole chiuse in settimana in Piemonte, Lombardia, Veneto insomma la situazione è un po' critica speriamo che non sia poi così grave speriamo che non si divulghi troppo non ho nient'altro da dire se non questo però non so oggi ho letto che ci sono delle sedute di allenamento insomma, non è che si può si può fare altro grande guarda il mio canale ora, beh farò poi il gameplay cronostico di Interludo Goretz sicuramente penso probabilmente martedì o domani non lo so vediamo un po' come sarà la situazione sicuramente quello di giovedì non sarà sicuramente rinviata saranno porte chiuse campo neutro la vedo duro anche il campo neutro dove vai? a Roma insomma porti chiusi mi sembra mi sembra un po' più semplice comunque adesso staremo a vedere cosa succederà se non saranno aggiornamenti nel momento in cui tali che ero a questo video nel momento in cui lo vedrete saranno altre novità e ci aggiorneremo poi via dicendo durante i prossimi giorni sicuramente e che dire poi oggi ho giocato la Lazio se non altro no la Roma tra un po' inizio a giocare la Lazio ha giocato a Genova ha occupato fino all'ultimo in 10 minuti ma niente da fare ma ha vinto di nuovo ha vinto di nuovo ragazzi poco da fare poco da fare abbiamo un'altra un'altra antagonista in questo campionato ormai risaputo le vince tutte ora le vince tutte tali vince tutte che bisogna fare che bisogna fare purtroppo a me mi fa imbestellire che quando l'Inter c'ha magari ne pareggia una o ne perde una poi su quella dopo non è che la vince no capita una volta poi dopo c'ha di nuovo il pareggio invece con la Lazio ne pareggia uno poi l'altra le vince tutte così come era Juve ieri ha di nuovo vinto cosa abbiamo a fare ragazzi è così è così questo campionato va così ora vabbè questa partita è stata rinviata quindi siamo a meno 4 dalla Lazio o meno 6 dalla Juve con una partita in meno può in qualche modo forse spaventare la classifica non lo so però noi andiamo avanti per la nostra strada ora pensiamo a giovedì che è una partita comunque seppur sedicesimi di finale dell'Opa League comunque importante vediamo di mantenere il risultato ottenuto all'andata e quantomeno non farci rimontare perché sennò sarebbe davvero assurda una cosa del genere e poi domenica il big match il derby d'Italia Juve-Inter vedremo cosa verrà fatto rinviata non credo verrà rinviata perché sennò sarebbe un bel casino un bel casino perché insomma rinviare un'altra partita di Serie A poi quando caspita giochi fai porte chiuse e amen è l'unica soluzione comunque forza Inter ragazzi buon proseguimento iscrivetevi al canale e ci aggiorniamo via dicendo sperando di di non sentire altre brutte notizie se così si possono definire per l'invio delle partite e appunto ovviamente di non avere altre vittime ma speriamo che questo coronavirus sia una cosa non troppo pericolosa per il futuro che si fermi un po' che sia soltanto il periodo e non anche perché insomma è una situazione un po' inaspettata ecco sembrava una sembrava una cosa un po' come si può dire non tanto grave no? a meno per le nostre zone per l'Europa in realtà comunque si sta vedendo che effettivamente non è da sottovalutare ragazzi ancora presto un buon proseguimento forza Inter ci aggiorniamo a presto ciao